Garofoli offre anche boiserie e pareti attrezzate completamente personalizzabili e facilmente installabili. Qui un esempio di composizione a giorno per conferire la massima eleganza alla zona TV. Design ed eleganza su misura. Con i componenti per le pareti attrezzate Garofoli, Mensole e Boiserie, ogni ambiente può essere spinto al massimo della funzionalità e dell'eleganza. In questa composizione, una porta scorrevole della collezione arte su binario telescopico a scomparsa.